Crea pagina Facebook per promuovere azioni violente contro i migranti, denunciato dalla polizia. Il responsabile è un ventenne di Roseto degli Abruzzi, che aveva avviato la raccolta di adesioni per un'iniziativa programmata per domenica. Si era comunque accorto di averla fatta grossa, tanto che dopo due giorni aveva cancellato la pagina dal noto social network, in cui, oltre ad esprimere avversione, invitava ad una mobilitazione contro i migranti ospitati in un centro di prima accoglienza a Roseto. L'iniziativa non era sfuggita agli organi di informazione, che se ne erano occupati. Vent'anni, studente universitario, si è giustificato con gli agenti della Dicos, che sono risaliti al suo nominativo tramite immediati accertamenti anche telematici, dicendo che la sua posizione scaturiva dalla tentata aggressione di un migrante in danno di una ragazza del posto. Notizia circolata nei giorni scorsi, ma risultata assolutamente non veritiera da attività d'indagine delle stesse forze dell'ordine. Seppur definita dallo stesso una gogliardata, il giovane dovrà rispondere ai sensi della legge di istigazione alla violenza per motivi razziali e procurato allarme.